In un momento particolarmente delicato e difficile per le ex province lasciate senza fondi e con servizi da assicurare si è insediato il nuovo collegio dei revisori dei conti del libero consorzio comunale di Agrigento. Alla presenza del commissario straordinario Alberto Girolamo di Pisa e del direttore generale Caterina Moricca si è svolta la prima riunione dell'organo di controllo contabile. Il collegio è composto da Marcello Barbaro di Palermo, commercialista, laureato in scienze statistiche e demografiche, Giuseppe Cambria di Milazzo, dottore commercialista, laureato in economia e commercio e Pietro Gioviale, dottore commercialista, originario di Sant'Angelo di Brolo con laurea in economia e commercio. L'incarico di presidente è stato assegnato a Marcello Barbaro in base alla normativa vigente dal momento che ha avuto il maggior numero di incarichi di revisione presso altri enti locali. Il nuovo collegio dei revisori è stato nominato dal commissario di Pisa a seguito di sorteggio elettronico. resterà in carica per tre anni e si occuperà tra l'altro del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, delle variazioni e assestamenti del bilancio, dei piani economici e finanziari, gli investimenti che comportano oneri di gestione indotti, dei programmi di opere pubbliche e le loro modificazioni. Intanto il commissario di Pisa ha approvato la delibera che prevede l'istituzione di posizioni organizzative. Al capo di gabinetto, che fa parte dello staff del commissario, sarà riconosciuta una retribuzione di posizione di 6.500 euro. Ed ancora, alla direzione generale, la posizione organizzativa risorse umane e innovazione tecnologica avrà una retribuzione di 11.000 euro. Poi c'è la posizione organizzativa controlli, anticorruzione e trasparenza, con una retribuzione di 6.500 euro. Quella della direzione organizzazione, 5.000 euro. Innovazione tecnologica, 6.500 euro. Previdenza, 5.000 euro. Una posizione organizzativa nel settore affari generali, quella della manutenzione, con una retribuzione di posizione di 5.000 euro. Un'altra nel settore ragioneria e economato, bilancio e rendiconto, pesatura economica di 6.500 euro. E quella della gestione paghe ed impieventi fiscali, 6.000 euro. Poi c'è quella dell'economato, con un pagamento di 5.000 euro. Nasce anche la posizione organizzativa, denominata contratti con pesatura economica di 11.000 euro. E quella della Polizia Provinciale, 9.000 euro di retribuzione. Anche gli avvocati avranno il loro dirigente, avvocatura e affari legali, con una pesatura economica di 6.500 euro. Nel settore ambiente è stata istituita la posizione organizzativa, infrastrutture stradali, con una retribuzione di 11.000 euro. Ambiente, con una retribuzione di 7.000 euro. Protezione civile, 6.500 euro. E turismo, per ulteriori 5.000 euro. Infine, nel settore politica attiva del lavoro, nasce la posizione organizzativa edilizia scolastica, con una retribuzione di posizione di 9.000 euro all'anno.